Due ore di sciopero per ogni turno di lavoro alla Pierburg, in località Cerratina di Lanciano, una delle aziende più longeve della Val di Sangro che opera nel settore della componentistica auto. Qui si teme per il futuro dei lavoratori, ma anche per il futuro di questa azienda. Impegni disattesi secondo i sindacati, quali? Felice De Meo, della Wilm Chieti Pescara. Forti impegni disattesi, presi in sedi istituzionali da parte dell'azienda, che ci aveva garantito che avrebbe portato delle lavorazioni. Ciò non si è verificato e purtroppo siamo preoccupati perché i nuovi impegni che si dovrebbero prendere ci vengono tanto descritti, però alla fine si è concluso con un nulla di fatto perché hanno detto che loro non sono in grado di prendersi alcunché di impegno certo e preciso verso i lavoratori. Questa è fonte di preoccupazione da parte del sito in Lanciano e oggi qui ci sono i lavoratori a manifestare questo dissenso. Andrea De Lutis, della FIOM, cosa temete? In Italia ci sono due stabilimenti, uno a Chieti, a Lanciano e uno a Livorno. L'azienda, o meglio, fonti ufficiali ci hanno detto che è uno dei due stabilimenti a rischio quindi noi siamo molto e fortemente preoccupati per lo stabilimento di Lanciano. Comunque in questi giorni stiamo intrattenendo interlocuzioni anche con i nostri colleghi di Livorno e ci organizzeremo per avere un tavolo unico e per smascherare l'azienda, capire e pretendere che in realtà tutti e due i siti italiani restino aperti e che vengono mantenuti gli impegni presi nei tavoli istituzionali. Quanti sono i lavoratori rimasti? Oggi ci sono rimasti 114 dipendenti alla Pierburg di Lanciano. È un'azienda che piano piano si sta svuotando e crediamo che molto probabilmente è questo l'intento dell'azienda. Non dichiarare la chiusura ma svuotare con i pensionamenti l'azienda. Oggi sono andati oltre 30 persone in quota 100, nel corso dell'anno usciranno altre persone e anche in questo caso l'azienda non sta rispettando gli impegni presi, cioè quelli del ricambio generazionale. Non sanno entrare nessun lavoratore e stiamo rischiando anche la paralisi dell'azienda visto che la manutenzione oramai è quasi del tutto priva di lavoratori, così come l'ufficio ingegneria. Amedeo Nanni, della FIMCIS, prenderete qualsiasi iniziativa per salvaguardare i posti di lavoro? Assolutamente sì. Oggi siamo qui con i lavoratori della Pierburg per dimostrare all'azienda che questi lavoratori meritano rispetto perché in questi anni con gli accordi fatti hanno dato tanta flessibilità e quindi vogliamo che l'azienda rispetti gli accordi che fino adesso sta disattendendo al 100%. A partire da quello si è creato a luglio del 2017 che prevedeva che nello stabilimento di Lanciano venissero portati 15 componenti in più rispetto a quello che già si stava producendo e invece ha disatteso al 100% quello che aveva promesso.